Papa Leone Magno, noto anche come San Leone Magno, è stato uno dei vescovi più influenti nella storia della Chiesa Cattolica. Nato a Tusculo, in Italia, intorno all'anno 410, Leone Magno divenne Papa nel 440 d.C. e mantenne la sua posizione di guida spirituale fino alla sua morte nel 461 d.C. Durante il suo pontificato, Leone Magno affrontò sfide eccezionalmente complesse, dimostrando abilità diplomatiche, leadership forte e profonda devozione alla difesa della fede cattolica. Leone Magno è stato uno dei primi papi a svolgere un ruolo significativo nella politica del suo tempo. Mentre l'impero romano occidentale stava cadendo, Leone dovette negoziare con le autorità civili e militari, in particolare con i barbari che minacciavano Roma. La sua abilità nel negoziare con questi gruppi fu fondamentale per proteggere la città e garantire la sicurezza. Dei suoi abitanti. La sua eloquenza e la sua ferma leadership gli valsero il titolo di Il Grande Il, da parte della Chiesa e gli consentirono di acquisire una forte influenza politica in un'epoca di grande instabilità, ma forse il contributo più duraturo di Leone Magno è stato nel campo teologico. Egli fu un ardente difensore del cristianesimo ortodosso, combattendo l'eresia e contribuendo in modo significativo alla definizione della dottrina cristiana. Leone Magno svolse un ruolo cruciale nel concilio di Calcedonia nel 451 dici, che sancii la natura divina e umana di Gesù Cristo. La sua autometu Flavian, una lettera che espone la dottrina dell'incarnazione, fu fondamentale nel convincere il concilio della validità della posizione cattolica. Il suo contributo teologico è inoltre evidente nelle sue numerose omelie e lettere, molte delle quali ci sono giunte fino ai giorni nostri. Attraverso questi scritti, Leone Magno ha lasciato un'eredità duratura che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della teologia cattolica. La sua abilità di esporre con chiarezza e precisione le verità della fede lo ha reso una figura di grande, influenza nei secoli successivi. Infine, Leone Magno è stato canonizzato come santo dalla Chiesa Cattolica, riconosciuto per la sua santità e la sua straordinaria leadership. La sua festa liturgica, il 10 novembre, è osservata da fedeli in tutto il mondo in onore del suo impatto duraturo sulla Chiesa e sulla spiritualità cristiana. In conclusione, il papato di Leone Magno è stato un periodo fondamentale nella storia della Chiesa Cattolica. La sua abilità politica, la sua saggezza teologica e la sua santità personale lo rendono una figura venerata e ammirata da cattolici. E non solo. La sua eredità continua a influenzare la Chiesa e il mondo fino ai giorni nostri. Attila L'incontro con Attila Uno degli eventi più celebri del pontificato di Leone Magno fu l'incontro con Attila, il re degli Unni. Avvenuto nel 452 dici Attila era un leader carismatico e temuto, e il suo regno fu caratterizzato da una serie di conquiste sanguinose. Dopo aver devastato l'Italia settentrionale, Attila si diresse verso Roma. Le autorità romane, incapaci di fermarlo con le armi, decisero di inviare una delegazione guidata da Papa Leone Magno. Leone Magno era convinto che la sua presenza potesse fermare Attila, e che la fede cristiana potesse avere un ruolo decisivo nella risoluzione della crisi. Il 3 agosto 452, le due delegazioni si incontrarono sulle rive del fiume Mincio, non lontano da Mantova. Attila, inizialmente, non era disposto a parlare con il Papa. Tuttavia, Leone Magno riuscì a convincerlo a concedergli un'udienza. Il colloquio tra Leone Magno e Attila durò diverse ore. Il Papa parlò al re degli Unni con fermezza e autorità. Gli ricordò che Roma era la città del Dio cristiano, e che attaccarla avrebbe significato sfidare la volontà di Dio stesso. Attila, inizialmente, sembrò impressionato dalle parole del Papa. Tuttavia, era ancora deciso a invadere Roma. Secondo la leggenda, durante il colloquio, apparvero ai due sovrani le figure di San Pietro e San Paolo, armati di spada. I due santi minacciarono Attila, dicendogli che se avesse invaso Roma, sarebbero stati costretti a intervenire. Attila, terrorizzato dalla visione, decise di ritirarsi. La decisione di Attila di ritirarsi fu un evento di grande importanza storica. Evitò la distruzione di Roma e la morte di migliaia di persone. L'incontro tra Leone Magno e Attila è stato a lungo celebrato come un esempio della vittoria del bene sul male, della fede sulla violenza. È un evento che ha segnato la storia della Chiesa Cattolica e dell'Europa. Un Papa di grande eredità Leone Magno è stato un Papa di grande eredità. Le sue opere teologiche hanno contribuito a definire l'identità della Chiesa Cattolica e il suo ruolo nella storia è stato fondamentale per la sopravvivenza della cristianità in Europa. Leone Magno è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa. La sua festa viene celebrata il 10 novembre. Conclusione Leone Magno è stato un uomo di grande fede, di coraggio e di intelligenza. Il suo pontificato è stato caratterizzato da una serie di eventi di grande importanza storica, tra cui l'incontro con Attila. L'eredità di Leone Magno è ancora oggi viva e il suo ruolo nella storia della Chiesa Cattolica e dell'Europa è stato fondamentale. L'eredità di Leone Magno è stato fondamentale per la sopravvivenza della Chiesa Cattolica e dell'Europa è stato fondamentale.